Buongiorno venerdì 14 dicembre. Eccoci nell'edicola di Otto Channel. Allora iniziamo con il Roma, la prima pagina del Roma. Andiamo a Soccavo, incensurati, uccisi per un'offesa, patto, mele, vigilia per la Loggetta. In retroscena sui raid contro Sorianiello e Megali, i pentiti svelano gli accordi segreti per la droga. Poi cambiando argomento il Consiglio dice sì ai centri d'accoglienza, ma Secondigliano e la Duchesca esplodono. Proseguendo il Cardinale Sepe all'ospedale Cardarelli, un Natale d'amore per i nostri ammalati. Come al solito tanta cronaca di Spalla, il Giallo di Chiaia, il Delitto Materazzo, poi la cronaca che arriva dai Decumani, da Ercolano, da Meta di Sorrento e da Qualiano. E poi in taglio alto si prosegue con la cronaca. Troviamo barra spari al corso sirena, guerra aperta al clan Aprea, 11 colpi di pistola esplosi in mezzo al traffico. E poi l'affondo della DDA al clan Mariano, camorra droga ed estorsioni. La Procura chiede la condanna dei RAS, dei quartieri spagnoli. Questo per quanto riguarda la prima del Roma. Prendiamo adesso la Repubblica e quindi andiamo sui temi più nazionali. Pensioni, reddito e tasse, manovra da rifare lite sui tagli. L'Unione Europea chiede di più, trattativa a oltranza. Lega e 5 Stelle, base in rivolta. Vi siete rimangiati tutto. Poi, oggi riaprono i mercatini a Strasburgo, trovato e ucciso dalla polizia l'attentatore di Strasburgo. La scelta di donna, di di donna, quella cicatrice sul viso dell'insegnante. E lei, la nostra donna dell'anno, Franca Di Blasio, nella foto della copertina di D. E poi andiamo a Lodi, sconfitta la sindaca, la sentenza. Tutti i bambini stranieri hanno diritto alla mensa. L'ONU boccia il bollino rosso per parmigiano e prosciutto. Non fanno male alla salute. Questa la prima di Repubblica. Entrando all'interno, pagine 2 e 3. La trattativa sulla manovra. L'Unione Europea chiede di più. Mancano 4,5 miliardi per l'intesa. Moscovi sì, l'Italia faccia altri passi, poi frena. C'è la volontà di accordarsi. Barest ha una distanza dello 0,25% sul deficit. Conte cerca il consenso dei paesi falchi e vede il vicepremier olandese. Dunque il gap è questo 0,25% e il ribasso ulteriore della quota di deficit che la Commissione chiede all'Italia. Pari a più di 4 miliardi. Qualche virgolettato. Luigi Di Maio, questo 2,4 significa tanto per la dignità delle persone e per la ricchezza delle famiglie italiane. Tornare indietro dal 2,4 significa dire agli italiani non andate più in pensione, non vi alziamo le minime, non risarciamo i truffati delle banche e non si fa il reddito di cittadinanza. Così Di Maio il 2 ottobre. Sulla materia è intervenuto anche Salvini. Sono felice perché abbiamo restituito il diritto al lavoro, alla pensione e alla speranza a milioni di italiani. Se ne faranno una ragione i mercati. E' sempre lo stesso Salvini, è arrivata la lettera di Bruxelles, aspetto anche quella di Babbo Natale, ironizzava così il vicepremier. Discuteremo educatamente, ci confronteremo, ma io vado avanti. E intanto andiamo a pagina 3, il retroscena sul fronte interno. Il ministro Tria punta un altro taglio sulle pensioni, Salvini stacca il telefono, non si tratta. Il ministro del Tesoro cerca in vano il vicepremier leghista, a Conte manca l'ok politico per l'ultimo sforzo e tra gli alleati di governo si riapre il braccio di ferro. Intanto il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, chiude il quantitative easing, ma resta il sostegno ai titoli italiani. Il bilancio sul quantitative easing, motore di crescita, i bond in pancia alla BCE non andranno sul mercato, almeno fino al 2020. Proseguendo da Repubblica, dal balcone alla rivolta della base, vi siete rimangiati tutto. I deputati 5 Stelle festeggiano in discoteca, Conte, Di Maio e Salvini al ristorante, ma la retromarcia sulla manovra scatena sui social la protesta degli elettori giallo-verdi. Questa è l'altra faccia della trattativa con l'Unione Europea. L'annuncio sul balcone il 27 settembre di Di Maio che festeggiava la manovra al 2,4%. Insomma, adesso il governo è costretto a fare marcia indietro su questi numeri della manovra. Proseguendo ancora da Repubblica, andiamo a pagina 7. Le imprese, l'ira degli artigiani, Conte ci ascolti, noi motore del paese. In migliaia per chiedere lo sblocco delle grandi infrastrutture, dialogo con la Lega, ma diffidenza nei confronti del Movimento 5 Stelle. Qui nella fotografia appunto la manifestazione della Conf Artigianato, ieri al Milano Convention Center, ribattezzata Quelli del Sì, con tante bandiere blu della Conf Artigianato. Proseguendo ancora, andiamo a pagina 8. Il congresso dei Dem, PD, Zingaretti parte da Genova, basta con il partito del leader, siamo una storia collettiva. 85 Renziani si schierano con Martina, Prodi non so se voto alle primarie. Se manca una comunità è difficile, dice Zingaretti, che qualcuno voglia entrarci. Non mi piace l'ossessione di volerla colpire e denigrare. Ancora scorrendo da Repubblica, pagine 12 e 13, gli esteri. L'attacco a Strasburgo, al mercatino di Natale. La fuga di Cerif dura due giorni. Ucciso dagli agenti, l'Isis rivendica. Il killer di Strasburgo, avvistato per caso ieri sera da una pattuglia della polizia locale, si nascondeva in un garage abbandonato, non distante dalla strada teatro dell'attentato. Al tassista, che lo aveva visto per ultimo, aveva detto l'ho fatto per i fratelli uccisi in Siria. Eccola la foto dell'attentatore. E poi la storia di Antonio Megalizzi. Pochi soldi, notti in pullman. Antonio sognava l'Europa senza più muri e confini. 29 anni, colpito alla testa. A Strasburgo è in coma irreversibile. Un simbolo di una generazione che lavora per cancellare le barriere. E poi qui Repubblica ci ricorda gli altri giovani italiani vittime di terrorismo e incidenti. Valeria Solessin, per esempio, la ricercatrice uccisa durante l'attentato al Bataclan di Parigi il 13 novembre del 2015. Andando ancora avanti da Repubblica, pagina 16. Siamo a Genova, la ricostruzione del Ponte Morandi. Bucci vuole l'intesa tra Big, ma Renzo Piano è favorito su Calatrava. A ore l'annuncio su chi ricostruirà il ponte. Autostrade fa ricorso senza chiedere di fermare i lavori. Il sindaco commissario punta a coinvolgere sia Fincantieri che Cimolai. L'incognita però è appunto sul progetto. E poi, per chiudere Repubblica, andiamo a pagina 21. La sentenza a Lodi. Mense, il Comune ha discriminato la vittoria dei bambini di Lodi. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso delle associazioni che difendono le famiglie straniere. L'intervista con la passionaria di tutta questa vicenda, ma la sindaca non ci ha mai aperto le porte. Ora vigileremo. Va bene, questo per quanto riguarda i temi nazionali con Repubblica. Adesso prendiamo Repubblica Napoli. L'apertura è per le catacombe del Rione Sanità. Parte un nuovo appello, incontro al Vaticano con i ragazzi. Intervista a Repubblica del Questore De Jesu. L'esperienza a L'Orione Sanità oggi è un modello contro la camorra. E poi le due immagini che riguardano la scuola. La prima, gli studenti del Righi. In finale al concorso del Meet di Boston, la scuola di Amicis, flash mob antifascista, la recita con Bella Ciao si farà. Le feste natalizie, Natale senza installazioni e Capodanno in Austerity. Ci sono sette giorni per salvare lo show a Napoli. E poi il San Paolo, ok, al restyling dello stadio con 55 mila posti. e sediolini tutti azzurri. All'interno anche di Repubblica Napoli, pagine 4 e 5, i beni culturali. Il caso catacombe all'università. Martedì seminario alla Federico II con Don Loffredo e docenti. Il 22 al San Carlo, il concerto della Sanità Ensemble. Qui nella fotografia padre Antonio Loffredo, animatore di importanti iniziative nel Rione Sanità. E poi l'intervento del manager, appello a Ravasi, se il Vaticano chiede il 50%, l'apparanza muore. Va rivista la convenzione del 2009, auspicabile un incontro con i ragazzi. L'intervista anche al questore Antonio De Jesu su questo argomento. Il modello sanità esempio di riscatto di un quartiere, così si sconfigge la camorra. Dice De Jesu, le denunce scarseggiano, ma non bastano le fiaccolate, ci vogliono fatti concreti. A Castellammare un imprenditore aveva 2 milioni e mezzo nascosti come Scarface. È servito un giorno per contarli. Sui giornali la cronaca nera ha gli stessi titoli di 14 anni fa, nonostante i risultati conseguiti dagli investigatori. A tutta pagina l'intervista con Antonio De Jesu si parte dalle catacombe del rione sanità e poi naturalmente si spazia un po' su tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico a Napoli. Prendiamo adesso il mattino nazionale e troviamo l'apertura sulla manovra. Reddito e pensioni in quota 100, la stretta per ridurre il deficit. Sulla manovra le ultime richieste dell'Europa. Conte ottiene l'ok della Merkel. Dismissioni e tagli servono altri 3 miliardi. Ipotesi dell'aumento dell'IVA nel 2020. Il giudice dal Brasile, arrestate Battisti, va estradato in Italia. Dunque Cesare Battisti è sempre più vicino all'estradizione nel nostro paese. La tragedia di Strasburgo, Migalizzi in coma, ore decisive. Ucciso il killer della strage si nascondeva a Strasburgo. Bufera sulla normale a Napoli. Il direttore protetto dagli agenti. Barone chiede e ottiene un'auto di vigilanza sotto casa e università. Mozione di sfiducia degli studenti. Rettore tentato dalle dimissioni. E poi l'intervista con il capo degli arbitri, Nicchi, mai più un caso Higuain, basta violenze contro gli arbitri. I campioni hanno molte colpe. Un po' di sport dal mattino nazionale, pagina 16. Goulam, il colpo mancino. Il terzino algerino ha messo alle spalle il lungo infortunio. È un'arma in più decisiva per Ancelotti sulla fascia sinistra. Titolare col Frosinone è in campo nel finale al Liverpool contro il Cagliari. Candidato a partire dal primo minuto. La visita di Goulam con Coulibaly ai piccoli, ammalati dall'ospedale Santo Bono, felici di regalare un sorriso. Invece Mario Rui finisce sulla vergogna dei social. Insulti al portoghese. Pesanti giudizi dopo la brutta partita contro il Liverpool. E il difensore portoghese è stato costretto a chiudere l'account su Instagram. Ancora per quanto riguarda il Napoli. Pagina 17. Napoli ora fai come l'atletico di Madrid. La squadra di Simeone ha sollevato l'Europa League per due volte dopo la retrocessione dalla Champions. La conquista della Coppa è riuscita anche al Siviglia, allo Shakhtar e al Chelsea dell'ex allenatore azzurro Benitez. Da quando esiste il nuovo torneo europeo, cinque squadre hanno vinto il titolo da retrocesse dalla Champions. Non se intanto ieri si è giocata proprio l'Europa League con i tifosi dell'Eintracht Francoforte che hanno devastato Roma in occasione della partita contro la Lazio. Prendiamo adesso il mattino Napoli, la prima interna. In apertura ci sono le universiadi. Universiadi al fotofinish. In sospeso ancora dieci gare. Il commissario parla di ritardi per lo scontro sul villaggio della mostra. Il rugby andrà nell'ex base Nato. 200 giorni al via, impianti accoglienza, tutta la mappa dei cantieri. E poi il caso della scuola di Amicis. Bella ciao alla recita e bufera. La polemica. Il pastore di Hitler decide di richieste ma non lo farò più. L'artigiano di Virgilio non è questa la mia missione. La Digos cerca la donna che ha ordinato la statuetta. Questa è la prima interna del mattino Napoli. Andiamo a scorrere adesso le prime dalle altre province. Partendo da Avellino. In apertura i servizi, segnatamente l'acqua. Bufera sugli esattori porta a porta. La protesta. Condotte aggressive verso gli utenti. La società che riscuote le morosità per alto calore preannuncia le visite. e insorgono i consumatori. Poi si parla di ambiente. Provincia e Irpini Ambiente chiedono che si vigili sullo stir. Quindi nuovo appello per l'esercito nello stir di Piano Dardine. Ancora a proposito dell'ambiente. Lo smog. Il commissario straordinario Priolo tira dritto. Blocco auto prorogato. Blocco auto verrà prorogato. Il commissario conferma il provvedimento. Gli sforamenti di polveri sottili toccano quota 40. Quindi si andrà fino al 31 dicembre. Prorogato il blocco che scadeva il giorno 16. Dopodomani il Natale. Corsa contro il tempo per le luminarie. Incognita dissesto. Si insedia il subcommissario Anatriello. Verdetto decisivo che però arriverà non prima di un mese. Allora per quanto riguarda Avellino vediamo il servizio proprio sul blocco auto prorogato fino alla fine dell'anno dal commissario Priolo. Altri due sforamenti delle PM10 registrate nella città di Avellino. I divieti e l'ordinanza di limitazione al traffico emessa dal comune di Avellino non sono serviti a porre fine al problema dell'inquinamento in città. Per questo motivo il commissario prefettizio Giuseppe Priolo ha annunciato una nuova ordinanza con limitazioni più severe ma non solo. Si prevedono anche nuove centraline per rilevamenti più efficienti. Cercheremo di attivare qualsiasi procedura possibile per migliorare la situazione nel prossimo futuro. Tra questi, ne parlavo adesso con il dottore Sorvino, cercheremo di attivare questa centralina mobile che viene messa a disposizione dall'ARPA e che consentirà di avere delle rilevazioni ancora più attendibili di quelle che mi risultano essere attendibili già adesso. Non è solo questo che può risolvere i problemi, bisogna anche cercare una sinergia con i comuni vicini. Io penso che allo Stato la situazione sia assolutamente soddisfacente, ciò non toglie che è un tassello di un mosaico più complessivo che richiede la massima attenzione e naturalmente le attività di controllo e monitoraggio sono non un momento occasionale ma devono costituire un dato costante. Si parla di acqua anche sulla prima del mattino Benevento, vedete bollette più care, applicati i parametri del piano di rimodulazione, la novità nel capoluogo interessa 60.000 utenti. La Gesesa dunque ritocca le tariffe, ma fasce di consumo più ampie, previsti 5 scaglioni. Poi anche qui si parla di rifiuti, salvataggio della Samte, primo ok, adesso tocca alla Regione, concordato, sì dalla Presidenza del Consiglio. E poi sulla ex discarica l'inchiesta su Piano Borea, tutti assolti, nessuna irregolarità. Tra poco vediamo un servizio proprio su questa notizia. Intanto completiamo la prima anche dal mattino Benevento, l'iniziativa alla scoperta della città, si rimette in marcia il trenino dell'arte della provincia e poi il Benevento calcio verso la trasferta di Cosenza. Benevento Bucchi riparte dal difensore, anche a Benevento, a proposito dell'inquinamento, ci sono stati altri sforamenti e dunque anche nel capoluogo Sannita lo stop alle auto è più vicino. Allora, ritorniamo sui rifiuti, tutti assolti per quanto riguarda l'inchiesta sull'ex discarica di Piano Borea. Tutte assolte dal Tribunale di Benevento le cinque persone tirate in ballo da un'indagine del sostituto procuratore Clemente della forestale sulla gestione dei rifiuti nell'ex discarica di Piano Borea, alle porte del capoluogo Sannita. Assolti Lucio Leonardo e Massimo Romito, rispettivamente all'epoca dei fatti, presidente e direttore tecnico dell'Asia, accusati di abbandono di rifiuti, omissioni in atti di ufficio, e gestione di una discarica non autorizzata. Ed ancora assolto l'ex presidente del consorzio rifiuti BN1 Gerardo Giorgione, che rispondeva di abbandono di rifiuti e omissioni in atto di ufficio, l'ex sindaco Fausto Pepe, che era imputato solo per omissioni in atti di ufficio, e Carmine Cossiga di Napoli, commissario liquidatore dello stesso consorzio. L'inchiesta era stata centrata sia sull'area che comprende la vecchia discarica ormai dismessa, sia sulle due vasche realizzate dal comune di Benevento nel giugno del 2007, per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, e che secondo la procura erano equivalenti ad una discarica non autorizzata. Di diverso parere invece i giudici che hanno assolto tutti gli imputati. Siamo sul mattino Caserta, in primo piano l'inchiesta a palto rifiuti, il sindaco pedinato prima della gara, nel carteggio dei magistrati, l'esposto di un assessore contro un dirigente. L'incontro tra Marino, il sindaco, e due imprenditori in comune agli atti dei PM. Poi si parla del Natale della solidarietà, con i prefetti in campo proprio per la legalità, e poi la cronaca, la violenza, raid punitivo, a capua difende l'amico grave, 17enne, punito dal branco. Il giovane colpito al volto con un tirapugni, ora ha la mascella rotta e non può mangiare. Si parla poi dei tributi, con IMU e Tasi, evasori al 20%, corsa agli incassi e ai controlli. Altra inchiesta, quella che riguarda il voto a Maddaloni, con la polizia, che sequestra il telefonino di De Filippo, del sindaco De Filippo. L'emergenza flop differenziata, aversa rilancia, con 1600 nuovi contenitori. Questo per quanto riguarda Caserta. Vediamo adesso Salerno. Partiamo dalle cronache di Salerno, poi andiamo sul mattino. Immigrati e affari, arrestati padre e figlio. Salerno presi due ragionieri, la mente Gaetano Pappalardo, con studio a Torrione, nella Valle dell'Irno, dichiarazioni dei redditi fasulle per far ottenere permessi di soggiorno. Poi Salerno, il processo oggi a Napoli, udienza decisiva per Enrico Coscioni, accusato di tentata concussione. Ancora un episodio di violenza nel carcere di Fuorni. Dopo l'aggressione, Verdino si sfoga, in carcere comandano i detenuti, picchiate due guardie da un salernitano. Lotta anno c'era superiore, Montalbano spiazza fabbricatore, la mossa dell'ex sindaco sconvolge il centrodestra. Si parla di politica e poi, una notizia che arriva dal mondo della musica, è morto l'ex sassofonista Vincenzo Senatore. Questa la prima di cronache. Adesso vediamo anche la prima del mattino Salerno. il tempo di recuperarla. Un attimo solo. Un attimo che... Eccoci qua. Siamo ritornati sulla home del touch. Eccolo, il mattino Salerno, i contabili degli immigrati. L'inchiesta troviamo anche qui come su cronache. Padre e figlio chiedevano tra i 15 e i 20 euro agli stranieri 10.000 pratiche in 5 anni. Finte dichiarazioni dei redditi per avere il permesso di soggiorno. In due finiscono ai domiciliari. E poi, il marito accoltella il figlio. Lei muore di crepacuore. La tragedia di Serre. L'anziano soffre di Alzheimer. Tra un attimo vediamo il servizio. Anche qui completiamo la prima di Salerno. Il lutto. Al Duomo i funerali del pasticciere Pantaleone. È stato l'ambasciatore di Salerno. Così lo ricordano gli amici e soprattutto le istituzioni. E poi le grandi opere. A Salerno, Piazza Libertà. Ultimo atto. 13 imprese in gara per i lavori finali. La scuola, le indagini, i titoli di sostegno ottenuti col trucco per diventare docenti di ruolo. In taglio basso si parla della Salernitana. Dietro front col Antuono. Chance per Milan Diuric. In vista della trasferta di Carpi. Il mister rispolvera la punta e pensa anche al rilancio di Mazzarani. Allora, vediamo il servizio sulla tragedia di Serre con il marito malato di Alzheimer che accoltella il figlio e la mamma che muore di crepacuore. Vediamo. Dramma familiare a Serre, nel Salernitano. Un 84enne affetto dal morbo di Alzheimer e con problemi comportamentali durante una crisi ha accoltellato il figlio, 56enne. L'uomo è stato ferito con un'arma da taglio di grosse dimensioni. Ad assistere impotente alla scena l'anziana madre che per lo sciocca ha accusato un malore, un infarto fulminante che l'ha uccisa. Il figlio ha così chiesto aiuto ai vicini. È stato allertato. Il 118, l'anziana soccorsa dal personale medico arrivato in casa, è però deceduta per un arresto cardiocircolatorio. Il 56enne, trasportato d'urgenza all'ospedale di Eboli, è stato giudicato guaribile in otto giorni e dimesso dalla struttura. L'anziano padre, condotto invece dai soccorsi all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, è stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici. La salma della signora è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame del cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli. A loro il compito di ricostruire quanto accaduto. L'arma utilizzata dall'84enne è stata sequestrata. Abbiamo chiuso con i giornali, vediamo adesso le notizie dal nostro sito. Ottopagine.it, partendo da Napoli, l'attualità, un convegno oggi a Napoli, liberare i minori e renderli adulti e responsabili. Se ne parlerà con il garante dei detenuti della regione Campania al centro direzionale di Napoli. E poi scorrendo le altre slide, lo stadio, il San Paolo, Napoli 14 milioni per riqualificare e adeguare il San Paolo. La Giunta Comunale approva il progetto di restyling dell'impianto di fuorigrotta nell'articolo. Ci sono tutti i dettagli. E poi ancora, mistero a Ischia, scomparse due studentesse, erano uscite da scuola, non hanno fatto rientro a casa, ricerche attivate, ma finora senza alcun esito. L'ultima slide da Napoli è questa qui. Dopo il caso Hitler, i commercianti hanno avuto una bella idea, ecco che cosa si è pensato di realizzare a San Gregorio Armeno per rilanciare l'immagine di San Gregorio. Un modo diverso anche per attrarre turisti, anche in luoghi meno noti, ma storicamente importantissimi, a ritrovare la propria identità napoletana. Andiamo adesso su Avellino, vediamo cosa c'è. L'attualità, innanzitutto, a Greci arriva il Presidente della Repubblica d'Albania, evento straordinario in Irpinia. Domani, in occasione del 550esimo anniversario della dipartita di Giorgio Castriota-Skanderberg, eroe politico e diplomatico albanese, arriverà il Presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta. A darne notizia il Sindaco del Piccolo Comune della Valle del Cervaro, Nicola Luigi Norcia, appuntamento previsto in mattinata alle 10. E poi, scorrendo ancora da Avellino, tra Foro del Partenio, 4 km di Galleria per uscire dall'isolamento, De Luca dice sì al progetto del Presidente della provincia, Biancardi, che parla di opera necessaria, si andrebbe da Cervinara a Baiano in soli 15 minuti. Scorrendo ancora dal capoluogo Irpino, scuole, norme antincendio, ecco i progetti approvati ad Ariano Irpino, e poi smog, abbiamo sentito ad Avellino altri sforamenti, stop alle auto fino a Capodanno, arriva da lunedì l'ordinanza più severa, scatteranno i controlli con centraline random. Da Avellino ci spostiamo su Benevento, l'attualità, caos tetracloroetilene, si accertino cause e responsabilità, attivato a Benevento il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, a sollevare l'allarme la portavoce dei 5 Stelle, Angela Iannaro, che sta seguendo con apprezzione le volversi della vicenda, cercando di acquisire gli elementi utili per capire cosa causerebbe la presenza nell'acqua degli agenti inquinanti. Le altre slide, operato al San Raffaele, morto al Rummo, ci sono 13 indagati, il caso del 72enne napoletano ricoverato nei due ospedali alla clinica Maugeri, lunedì verrà effettuata l'autopsia. Ancora scorrendo da Benevento, la gestione della discarica di Piano Borea, abbiamo sentito tutti assolti, è arrivata la sentenza del Tribunale per Leonardo, Romito, Giorgione, Cossiga e Pepe. E poi l'ultima slide da Benevento, è questa qui, Casa di San Gennaro, PUC in aula come testi 5 tecnici, cronaca giudiziaria, processo mani sulla città, ascoltate 7 persone citate dalla difesa di 3 imputati. Velocemente vediamo anche Caserta, il generale Pomponi in visita al comando di Caserta, guida la Guardia di Finanza Campana ed ha incontrato prefetto e procuratore. Le altre slide dalla provincia di Terra di Lavoro, dramma lavoro, triste Natale per i lavoratori Apu di Lusciano, abbiamo lavorato per il Comune e adesso il Comune ci deve pagare. L'ultima slide da Caserta è questa qui, arriva da Maddaloni, il voto di scambio in 4 ai domiciliari, gli indagati promettevano denaro e posti di lavoro in aziende comunali. Per chiudere la sezione di Salerno, rifiuti interrati in Piazza Libertà, tutti assolti in appello, per la Procura sarebbero stati interrati reflui della demolizione del pastificio amato. È arrivata la sentenza di assoluzione, poi folla e commozione per l'addio a Mario Pantaleone, al Duomo, Salerno ha salutato il re dei pasticceri, i funerali appunto al Duomo, il ricordo di chi lo conosceva, c'è anche la possibilità di vedere il video. Le ultime due slide, processo per truffe e finti incidenti, chiesti 4 anni per un avvocato, secondo l'accusa si erano organizzati per spillare risarcimenti al comune di Salerno. E l'ultima slide è questa qui, l'omicidio Donofrio, arrestato un presunto spacciatore, DDA e Questura proseguono nelle indagini, mi ha ancora mistero sul killer del 36enne di Matierno. Va bene, abbiamo terminato con l'edicola di stamattina, grazie regia ad Aldo Fenizia, come al solito i prossimi appuntamenti con un'informazione di 8 Channel, alle 11 in rete con 8 pagine.it, e poi alle 14, alle 14.30, il TG News regionale e il TG Sport. Da Angelo Giuliani, una buona giornata, arrivederci. a tutti i prossimi appuntamenti